Ciao amici di Piazza Affari, dal vostro Eugenio, abbiamo qui Genoveffa che indossa un bellissimo capo della BN48, tale marca la si trova qui da Piazza Affari in via Cavour 69 a Voghera, ma ecco qua, anch'io voglio testè indossare un capo della suddetta ditta, la BN48 che potrete ammirare anche su internet e potrete meglio ancora ammirare, indossare ed acquistare qui da Piazza Affari dove Genoveffa e Eugenio vi aspettano per farvi provare questi meravigliosi giacconi. Genoveffa indossa un bel piumino lungo, mentre io indosso un capo in panno con interno in neoprene e qui ragazzi non passa vento, non passa aria, non passano neanche i fulmini. Ci vediamo qui, Piazza Affari via Cavour 69, vero Genoveffa? Sì! Evviva! Bye bye!